Leonardo Silva Revisoree Perché mai una persona vorrebbe lavorare gratis per un anno? Seguita da una squadra di persone che pure loro lavorano gratis per un anno, per fare un evento che dura un giorno e senza essere in generale nemmeno dei professionisti organizzatori di eventi. Perché? Perché farlo se le regole impediscono di trarne profitti economici. Le regole dicono che non può esserci un profit generato da questo evento e se generi un profit è un errore. Dunque devi prendere quel denaro, quel surplus, e donarlo a una ONG. Quando la conferenza californiana TED quattro anni e mezzo fa decise di fare un esperimento assolutamente marginale e pensò e se provassimo a creare un concetto di licenza locale, se mettessimo una X vicino a queste tre magiche lettere TED ed essimo ad alcune persone, compromessi, impegnate con la loro comunità, la possibilità di creare un piccolo evento allo stile TED, magari chissà dieci, venti, trenta città, potrebbero anche essere interessate. E dopo quattro anni e mezzo, sentite un po', dopo quattro anni e mezzo sono stati organizzati 8.220 TEDx in 153 paesi, in 2.083 città, con un pubblico di 1.200.100 persone più 480 oggi che siete voi, 33.300 conferenze in video, viste nella rete 150 milioni di volte. Oggi, per esempio, noi siamo qui a Como, ma non siamo soli. Siamo legati impercettibilmente nello spirito con altri 22 eventi, pensate, che si svolgono oggi, 9 novembre, nei cinque continenti, in Pakistan, in Trinidad e Tobago, in Sudan, in Kenya, negli Stati Uniti, negli Emirati, in Peru, in Romania, in Giappone, in Taiwan. Ma questi sono solo i numeri. E i numeri solo spiegano una parte di questo fenomeno. Ci sono delle altre cose che vanno capite, esplorate, e sono lo spirito, lo spirito speciale, legato a questa piattaforma, che è sì una piattaforma di licenze. Ci sono altri programmi di licenze, ma come questa non c'è nessuna. Questa è una cosa veramente speciale. Tanto per cominciare, questi contenuti, come li definiremmo? Cosa c'entra un elefante che corre follemente per una foresta con un bambino sindaco? Cosa c'entra un errore della genetica con una moto elettrica che va da Shanghai a Milano? Cosa c'entrano i paesi democratici con la religione? Cosa c'entrano tutte queste cose? E il pubblico? Come lo definiremo? Perché anche il pubblico è abbastanza indefinibile in tutti questi eventi. Perché io non vi conosco, ma basta guardarvi per capire che non siete un gruppo di professionisti di una, diciamo, industria o un'altra. Basta guardarvi per capire che non siete nessun gregge in particolare. A me piace questa piattaforma in special modo perché tutti possono scegliere di fare, in questo programma TEDx, quello che vogliono. possono decidere di prendere la leadership, chiedere una licenza che è gratuita, chiunque in questa sala la può chiedere, e diventare organizzatori, prendersi quella responsabilità e lavorare gratis durante un anno. Ma possono anche decidere di essere coorganizzatori e dare una mano a curare, a commissariare questi programmi così complicati da creare. O possono essere volontari, lavorare tutto l'anno come volontari, come tutti quelli che hanno aiutato l'evento di oggi, o essere volontari un giorno e venire qua oggi ad aiutare a che tutta questa logistica complicata funzioni. Ma poi possono anche decidere di essere pubblico, un pubblico attivo, come voi che avete sentito queste cose e nelle pause avete cominciato a discutere e stasera a cena, anche stasera discuterete, e domani. Oppure potete decidere di non venire nemmeno qui e vedere, perché molti degli eventi TEDx se sono proiettati gratuitamente in streaming, di vederlo da casa. E poi potete anche decidere di nemmeno fare quello, ma aspettare che tutti questi video vengano pubblicati gratuitamente in rete e vederli comodamente a casa vostra. Ma c'è anche di più. Ed è che questo programma arriva così capillarmente vicino a tante comunità che se avete un'idea che vale la pena diffondere, potreste addirittura voi essere speaker la prossima volta. Avete una idea che vale la pena diffondere, perché questo programma è anche per questo. E questo programma è anche per bambini. Per esempio oggi abbiamo avuto un esempio di un bambino che ha le idee chiare, ma non è l'unico. Sapete che un certo numero di eventi TEDx nel mondo sono organizzati da bambini per bambini. E il prossimo weekend, 16-17 novembre, che è prossimo al 20 novembre, Dia Mondiale dell'Infanzia organizzato dalle Nazioni Unite o lanciato dalle Nazioni Unite, 120 TEDx nel mondo sono organizzati da bambini e ragazzi per bambini e ragazzi. Potete vedere tutte le retrasmissioni di tutti questi eventi in una pagina speciale creata che si chiama TEDx Youth Day. Poi ci sono le università. E l'università ha un posto ideale per fare un TEDx. Infatti l'evento, diciamo la piattaforma, è cresciuta anche grazie alle tantissime università che hanno cominciato a organizzare eventi TEDx nei loro campus. Perché un'università è un luogo pieno di conoscenze che stanno aspettando di essere messe in comune, che stanno aspettando di essere regalate, perché sapete che noi organizzatori siamo obbligati a diffondere questi contenuti. La licenza è gratis, ma siamo obbligati a prendere tutti questi ponenti, metterli in un video e poi circolare questo video gratuitamente al mondo. E non è facile fare un TEDx in un'università. Ci sono un sacco di difficoltà burocratiche, soprattutto se sei uno studente e hai bisogno dell'appoggio di tutti. Eppure 100 e 120 TEDx nelle università. E poi ci sono colleghi che si mettono veramente in problemi. Per esempio TEDx nelle istituzioni penitenziarie. dove il ponente chi è? E' il recluso che per un giorno diventa un'altra cosa e insegna al mondo tutte quelle cose che ha imparato stando lì. C'è un evento negli Stati Uniti che si chiama TEDx Marion Correctional che si fa in un'istituzione penitenziaria di Ohio dove i ponenti sono i reclusi, le guardie e le loro famiglie. Ma altri si mettono in problemi ancora peggiori. Per esempio TEDx Maastricht. Sapete dove si fa un TEDx Maastricht? In un treno. Nel treno che va da Maastricht a Amsterdam e gli speaker parlano nei differenti vagoni. E poi si è anche fatto un TEDx nell'Everest in un campo base a 21.000 metri. Ho piedi, signori e signore. Per cui chi era il pubblico? Beh, gli scalatori e gli sherpa che passavano da quelle parti. Sapete che? In maggio è stato fatto. Sapete che? 2013 è l'anno del 60 anniversario della scalata all'Everest. E questo è il motivo. Forse un evento one shot, ma poi ci sono quelli di TEDxAntartida che fanno l'evento sul ghiaccio, sulla superficie del ghiaccio. hanno già fatto due o tre edizioni. Poi però ci sono anche i problemi. C'è gente che per fare questo evento veramente si mette in problemi con la polizia. TEDx Baghdad, TEDx Kabul. E quest'anno in Sudan, in TEDxKartoum, sapete che la polizia è entrata, un paese che non starà sicuramente nel mappa dei paesi democratici spiegati dal collega, è entrata la polizia a metà dell'evento e ha sganciato la corrente dell'hotel dove si stava svolgendo l'evento per impedire loro di continuarlo fino alla fine. Sapete che si fanno TEDx nei quartieri più poveri del mondo, nelle periferie delle grandi città africane, nella favela, dove sicuramente non ci sono i mezzi per avere un cestino e un panino così buono, dove è impossibile fare queste lettere di legno, dove la marca si fa ritagliando il cartone o con uno spray rosso sulle pareti. A volte si fanno TEDx nei villaggi della India dove non c'è l'elettricità e non si sa bene come lo fanno, ma lo fanno e accudono migliaia di donne vestite di nere coperte a discutere, a unirsi con altre persone, perché oggi qualcuno ha detto non mi importa ciò che la tecnologia arriverà ad ottenere, perché al finale io mi voglio unire fisicamente con altre persone. Dunque, perché facciamo questo? Ah, e perché lo sponsorizziamo, per esempio? Perché sponsorizziamo un evento come questo quando gli spazi commerciali sono così limitati, è assolutamente proibito unire la parte commerciale dalla parte di contenuto e la parte sponsoring deve essere così discreta. Perché? Perché tante aziende nel mondo hanno deciso di unirsi a questo movimento. Sapete che in Pakistan una coppia che si doveva sposare e ha scoperto che la data del suo matrimonio coincideva con l'evento TEDx e hanno cambiato la data del loro matrimonio. Anche succedono queste cose. Sapete che c'è gente in paesi e in città dove avere un'entrata a un evento come questo è una cosa così ambita e così desiderata che se uno è riuscito ad andare un anno, poi l'anno dopo si ha il biglietto, lo cede a un'altra persona che non è mai stata. E allora perché? Girolamo, perché? Perché lo facciamo? Perché tantissima gente fa questo tipo di cose straordinarie? Perché? Non lo sappiamo. Veramente non lo sappiamo, perché non c'è una risposta razionale, non c'è una risposta logica. È una specie di enigma. È la forza della X. Grazie mille.